riceverai poco. Se invece avrai fatto molto, molta sarà la mercede. Quanto fai, lo fai per il tuo bene. È nel tuo interesse considerare e fare ciò che ti conviene. Se hai qualcosa contro qualcuno, perdona. Se ti accosti per ricevere il perdono dei peccati, è necessario che anche tu perdoni a chi ha peccato. Chi nasconde le proprie colpe non avrà successo. Chi si confessa peccatore e si estiene dal male troverà indulgenza. Se riconosciamo i nostri peccati, Dio fedele e giusto ci perdona. Chi si confessa peccatore, si estiene dal male, troverà indulgenza. I miei occhi precedono l'aurora, o Dio, per meditare la tua parola. In vogo con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Lo dirò in... Perdono. Giusto?